Sei quattro volte campione italiano? Sì, tra il 1990 e il 2001 abbiamo vinto quattro campionati italiani. Una passione tramandata, mi ricordo quando andavamo in pista con le auto già, quando avevo sei anni, mi metteva i pezzi di legno inchiodati sui pedali perché non ci arrivavo, e poi i cuscini, questi sono ricordi molto nitidi, ecco. Le auto doggi vanno più forti, sicuramente vanno più forti. Penso non per sbiluirli, ma più facili da guidare. Noi dovevamo inventare un po' di più perché c'era meno tecnologia e il pilota faceva molto di più. Sicuramente c'era più percentuale di guida, però oggi il viaggio comunque bisogna sempre guidare lo stesso, non è che sia un robot come una pista. Grazie. Grazie a tutti.